Volevamo dedicare questa conferenza stampa al tema del sisma. Se avessimo comunicato sui temi della ricostruzione post-sisma, come abbiamo fatto con l'emergenza sanitaria coronavirus, sarebbe stato tutto più efficace nel far comprendere cosa volevano le marche e cosa voleva il governo. La comunicazione istituzionale non ha aiutato a capire bene questo, cosa che invece non è avvenuto per il coronavirus, dove una comunicazione più incisiva ha fatto capire a tutti cosa voleva la regione e quello invece che erano le posizioni di Conte. E questo il rammarico, nemmeno troppo celato, del governatore delle Marche, Luca Ceriscioli, scaturito dalle osservazioni che i marchigiani di quei comuni coinvolti nel sisma gli esprimono ogni volta che ne hanno occasione, rammarico espresso durante la videoconferenza stampa di questo pomeriggio con i giornalisti, collegati in streaming, nel quale si è parlato quasi esclusivamente di ricostruzione post-sisma. Non è cambiato il mio atteggiamento, ha detto il governatore, ma solo il modo di comunicare. Prima di questa sottolineatura fatta a margine delle risposte alle domande dei giornalisti collegati, Ceriscioli ha voluto e tenuto a precisare che l'argomento Covid-19 ha fagocitato in queste settimane tutte le altre argomentazioni, ma questo non vuol dire che gli uffici della regione non siano operativi su altri fronti, anzi, sul tema ricostruzione il nuovo commissario ha impresso una decisa spinta in avanti, accelerando su alcuni temi e riunioni, autorizzazioni e disbrigo di pratiche sono andati avanti col lavoro da remoto, da casa dei funzionari. Questo nuovo impulso ha portato a cinque nuove buone novelle a riguardo del tema. Il primo punto dell'emergenza sanitaria non ha inceppato o congelato la macchina burocratica della ricostruzione, quindi poi le 116 unità di rinforzo chieste a luglio per aumentare la forza lavoro sulle pratiche stanno per arrivare in regione. Per le imprese poi ci sono sul piatto 100 milioni di euro per lo stato di avanzamento dei lavori, comprese anche le spese effettuate sino ad ora, una bella boccata d'ossigeno per le oltre 1300 pratiche vase per la ricostruzione. Per i professionisti poi della progettazione che hanno operato e che hanno fatto da banca praticamente finanziando l'istituzione delle pratiche, sono pronti 10 milioni di euro con un fondo a rotazione di 31 milioni di euro. Le somme poi degli SMS solidali più volte al centro di accesi dibattiti hanno contribuito a realizzare 81 opere su 99 e altre 18 stanno per essere completate. Ultimi ma non ultimi poi, dal fondo di 50 milioni di euro del Cipe, 20 sono già disponibili per l'edilizia popolare, che consentirà a molte famiglie di uscire dai moduli e rientrare in una degna abitazione.